Buonasera ragazzi, buonasera a tutti voi e benvenuti in questo nuovo video Allora, appena terminato la partita della Roma Braga-Roma 0-2, quindi vittoria in trasferta della squadra giallorossa che ipoteca il passaggio del turno alla fase successiva di Europa League Una partita che però mi lascia un po' di amaro in bocca soprattutto per gli infortuni gli infortuni, specialmente in difesa, siamo letteralmente decimati perché oltre a Smollinger con Bulla oggi si sono aggiunti anche Cristante e i Banez quindi praticamente rimaniamo soltanto con Mancini dietro e questa è una situazione che speriamo si possa rimediare con il recupero di qualcuno per domenica o al massimo speriamo sia per il ritorno di Coppa sia soprattutto per la sfida con il Milan tra una decina di giorni La partita questa sera, a me piace tantissimo lo stadio del Braga arroccato sotto questa montagna non so se ci avete fatto caso, un impianto bellissimo ogni volta che vedo lo stadio del Braga rimango affascinato La partita alla vigilia era stata considerata una partita ostica io vi devo dire la verità ragazzi il Braga veramente si è dimostrata una squadra abbastanza modesta alla fine a parte Gaidan e Galano forse quello sulla fascia insomma a parte un paio di giocatori che sicuramente hanno un po' di padronanza tecnica gli altri sono veramente poca cosa secondo me ragazzi la Roma poteva benissimo fare almeno un altro paio di gol ci siamo mangiati come al solito delle occasioni clamorose però l'abbiamo portata a casa un risultato abbastanza acquisito, abbastanza tranquillo comunque bisogna giocare la partita di ritorno non è che abbiamo la qualificazione al 100% però io penso che al 90% 85-90% la Roma abbia la qualificazione in pugno nel primo tempo abbiamo siamo riusciti subito a sbloccare la partita con il gol di Zeko che torna al gol che tornava a titolare questa sera sta migliorando dal punto di vista fisico sta migliorando dal punto di vista dell'atteggiamento sicuramente anche se comunque si vede che il giocatore bisogna recuperarlo ancora un po' sia fisicamente che psicologicamente perché comunque non è il solito Zeko che siamo abituati a vedere di solito a centrocampo ha giocato Diavara e devo dire che è stato il migliore in campo oggi uno dei migliori è importante recuperare anche questi giocatori perché fanno parte della rosa della Roma e devono giocare perché comunque devono dar cambio ai titolari e soprattutto anche perché se tu vuoi venderli comunque li devi mettere in mostra non puoi fargli fare la panchina a vita dietro alla fine abbiamo dovuto giocare con Spinazzola adattato dietro quindi sulla fascia sinistra poi ha giocato Bruno Perez come esterno alto è chiaro che non si è spinto sulle fasce oggi pochissimo sia Gasdrop che Bruno Perez hanno spinto poco perché comunque essendo andati in vantaggio subito abbiamo cercato di controllare la cara senza strafare un po' come era successo nel secondo tempo di Collutinese questo Braga gioca in una maniera ragazzi spregiudicatissima cioè altro che Zeman questo qui giocava con il portiere a centrocampo praticamente infatti la Roma ha sbagliato tantissime ripartenze tanti passaggi finali ripeto potevamo almeno fare un altro paio di gol tante palle le ha prese il portiere che è uscito a Valanga che giocava da libero quindi forse avremmo dovuto capire prima come impostare un po' le ripartenze in modo da evitare questa cosa però è chiaro che la partita nel primo tempo si è messa subito bene potevamo fare 2-0 con Mkhitaryan alla fine del primo tempo ma ce lo siamo mangiato nel secondo tempo poi la partita ci si è spianata del tutto per l'espulsione del giocatore del Braga con un fallo che secondo me è assurdo fare quel tipo di fallo quando sei già ammonito fallo che è sicuramente da giallo quindi rimaniamo anche in superiorità numerica poco prima c'era stato un contrasto in aria tra i Banens e un giocatore del Braga io lì ho tremato perché effettivamente i Banens va sull'uomo anche se va sull'uomo di spalla però ragazzi si poteva dare e non dare questo rigore il problema è che poi i Banens su questo intervento si infortuna quindi speriamo che non sia niente di grave sicuramente domenica non giocherà adesso toccherà vedere se Fonseca opterà per una difesa a 4 la prossima a Benevento visto la mancanza di centrali magari farà giocare Casdrop e Spinazzola sulle fasce farà giocare centrali Mancini e Fazio perché sono gli unici oppure opterà per una difesa a 3 magari mettendo Spinazzola Mancini e Casro Periero e sulle fasce magari Santone e Perez poi lo vedremo domenica vedremo un po' come sono gli infortuni rimaniamo in superiorità numerica ragazzi però veramente abbiamo sprecato veramente tantissimo per poter fare 3-4 gol non abbiamo rischiato nulla il Braga ci ha provato con qualche azione faceva pressing alto per cercare di metterci in difficoltà non c'è riuscita all'ottantasesmo finalmente con una bella azione triangolazione assiste per le due gol di Borca Majorale che bisogna dirlo ragazzi si muove molto di più di Zeko dà molta più profondità all'azione Zeko purtroppo dovrebbe fare il gioco di sfonda ma non lo fa più invece Majorale si muove tanto è entrato anche il Sharawi che ha praticamente esaggiato il campo dopo mesi e mesi Mancini si fa munire stupidamente a fine partita per aver allontanato la palla sullo 0-2 ecco ragazzi queste sono le cose che a me mi fanno veramente rotere il culo perché noi già siamo in difficoltà dal punto di vista fisico degli infortuni sei rimasto solo tu come centrale ti fai a munire inutilmente se poi prendi un altro giallo una partita di ritorno vieni squalificato e la Roma si ritrova senza centrali dopo cioè bisogna pensarci a queste cose ecco perché dico che tanti giocatori della Roma devono ancora maturare dal punto di vista mentale comunque la partita la portiamo a casa tranquillamente ragazzi 0-2 ripeto partita in controllo quasi totalmente potevamo qualche gol in più mi dispiace mi ruote parecchio il sedere per questi infortuni perché ci mettono in difficoltà per il campionato però valuteranno poi domani che di che entità sono per adesso ragazzi ci portiamo a casa questa vittoria vi ricordo che alle 22 ci sarà la la live con me Nick giallo rosso e Mickey yellow red e si aggiungerà anche Johnny quindi vi invito a seguirci alle 22 sul mio canale per seguire la live ragazzi ditemi cosa ne pensate commentate mettete tanti like e ci vediamo più tardi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.